anticipo ieri sera e ne parleremo durante questa gara intanto è iniziato il match tra la Bartocini e Joel riceve bene Harley ma viene Murata, Murata Tanase bel primo tempo, bel primo tempo di Guidi, la classifica sono distanziate di 4 punti riceve bene Tanase, vediamo qual è la scelta adesso dell'alzatrice di Soverato ancora Perugia può contrattaccare con Smirnova, mani fuori della nostra per Perugia Pietrelli al servizio buono l'attacco in prima linea Pascucci De Michelis non chiude Luisa Casillo Pietrelli De Michelis per Pascucci, non chiude la nostra laterale lasciamo un po' correre questa Pietrelli da pipe, neanche lei riesce a mettere palla a terra però sparacchia fuori ma la palla viene toccata Ceve Pascucci De Michelis, mani fuori di Luisa Casillo, torna a meno 2 l'attacco in pipe Murato di Irina Smirnova e ancora Giulia Kotlar al servizio Harley, Perugia può rigiocare questo pallone con Pietrelli, cerca di sfondare il muro, il capitano non ci riesce e l'attacco dalla seconda linea della Harley funziona molto ci regalano questo pallone perché la palla era nettamente fuori possiamo contrattaccare con Pascucci e a segno Giulia Pascucci riceve Pietrelli Smirnova pallonetto che mette un po' in apprensione la difesa di Soverato Perugia può ricostruire ancora con Smirnova l'attacco questa volta è ben difeso ma ancora la palla torna nel campo di Perugia non chiude Pietrelli la seconda volta neanche Bruno difende molto bene pallonetto di Soverato che non funziona e poi la pipe di Giulia Pascucci vediamo l'attacco della formazione ospite il muro tiene ma ancora Soverato che contrattacca mani fuori giocato molto bene Perugia, Irina Smirnova al servizio Bruno difende possiamo contrattaccare con Pietrelli quindi assegno il nostro capitano ed è il muro di Giulia Kotlar che conquista il 25esimo punto